Cosa stai facendo? Cosa è? Guardate i tutor! Animale, animale, benvenuti in questo nuovissimo video. Vedrete appunto un best moments di quello che è stata la live su Minecraft delle Bedwars. Due ore di live racchiuse in dieci minuti di video. Una cosa alquanto divertente, godetevelo tutto. E quest'oggi se arriviamo a mille condivisioni entro le 18 avrete un secondo video di Minecraft. Potete condividerlo ovunque, anche su Whatsapp ai vostri amici. Buona visione. Bocco di merda buoni! A Sabrina sono due settimane che io gli chiedo. Mi puoi per favore, per favore, comprare le bottiglie d'acqua? Perché noi abbiamo una specie di coso che eroga l'acqua e fa l'acqua buona, no? Dal rubinetto fa diventare l'acqua buona. E c'è già quella, non serve che compri le bottiglie. Quindi io ho dovuto prendere sto coso. Io devo andare, se no ogni volta, andare in cucina a prendere un bicchiere di plastica o di vetro e bere. Ho visto che non mi puoi comprare le bottiglie. Io bevo così, dalla brocca. Chi se ne frega, andiamo a spaccare tutto. Ciao nemali, nemali, quest'oggi abbiamo qua in camera una ragazza strepitosa. È arrivata sesta a Miss Italia, ma prima... Non mi ero vestita così, però. Ma prima, nello stesso anno, come Miss Eleganza. Infatti è di un'eleganza e di una compostezza assurda questa ragazza. Ciao amici! TIRA RAGAZZO! Stavamo dicendo, ma sei senza skin, barbone schifoso. E che ha rubato l'account a un fan. Vestiti! Oh madonna mia. Oh mamma mia. Guarda, guarda questi cosa stanno facendo. Stimbo, ci sono maledetti. Sai che ti dico... YOLO! Dov'è? Dov'è? Sta succedendo. Oh, l'ho rotto, l'ho rotto, l'ho rotto. Raga, ma che state facendo? No, mi disposto che non è per niente di freddo. Ho di sotto il letto, poi però sono morto. Qui è caduto a solo 18 nel vuoto. Zio! Mi è caduto piuttosto. No, 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 arrivo, 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 arrivo. Uno si è buttato di sotto, un altro si è buttato di sotto. No, un altro, un verde. Sì, ti chiamanti. C'è bello, Morice. È andato. I verdi, buona. Ciao. Maledetti rossi schifosi! Cosa c'hanno i rossi? Cosa stanno facendo? Niente, non riesco a ucciderli. Il blu, io sono amico vostro. Vabbè, Tudor sto finendo la copertura del letto, eh. No, no, la finisco io, bello. Cosa? Aspetto a me, guarda. Cosa c'ha fatto che c'erano davanti? Fra il alfer... Stai, se vieni con una dinamite e ti venga a dare una... Oddio, i blu, i blu, ragazzi, i blu, i blu stanno attaccando tutti i rossi. Stanno attaccando i rossi. Quindi a sto punto se ne approfitto. Magari i blu li scanniamo. Uh, aspetta che sono distratti. Arrivo, arrivo. All'altro lato, mi sa che riesco ad entrargli in base, raga. No, 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 cre... C'è, 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 c'è... Ragazzi, ce la faccio, mi sa che ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Sono... È tu risulta, baby! L'avete registrata in blu? Io sono morto. La cosa divertente è che in base nostra non c'è nessuno. Tudor, non serve più niente di fai... Cosa hai creato un fortino? Esco nudo di casa se perdiamo sta partita. Raga, perché non mi vai internet? Sì, vabbè. Devo caricare. Cosa mi hai sposto occupito? Eccoli. Ragazzi, ve lo vi ricordate? Ma voi tiene... 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 Ma non c'è il ponte... Ma tutti a proteggersi? Chi è l'invisibile? Vai! E non c'è il ponte, zio! Vai! Come ti fai ad andare? Messoa TNT! Ma dove... Ah! Allora io mi struttoletto, devi solo ucciderli! E questo... Questo va via. Questo? Un attimino. Un attimo. Vai, muore! Morto! Morto alla tua cazzo! E muore anche questo, è morto, ciao, bello! Oh! Oh! Non moriva! Quindi Sascha deve uscire nudo, incredibile! Ma aveva mento! Allora Stefano, ci stai adesso che mandiamo all'attacco su Rie e Tudor. Eh, non si può fare perché io alle 4 devo uscire di casa, quindi non c'è tutto. Ah, ok. A te lo sta arrivando in blu, Sascha, attento i blu. Che va a gasciarla, ho messo un cacchio. Arrivo, arrivo, colpisciolo, zio colpisciolo, zio colpisciolo, zio colpisciolo. No, il letto, no! No! Il letto! Il letto! Questo non crepa! Questo non crepa! Bucco di merda, muori! Tranquilli, tranquilli, raga, è tutto sotto. Oh, porca puttana, stanno arrivando anche i gialli! No, raga, stanno arrivando i gialli. Raga! Oh, voi di tenete, io rimpiazzo il letto. Oh, cazzo, c'è! Non spira e stai tranquillo, vai, raga! C'aveva due svelaldi, questo! Raga, vi ha rischiato di perdere il letto. Che, che è crepato! E' il futuro che c'è un giallo. Non la lana, non la lana, sta arrivando il giallo. Oh, ma ti svegli, più materiali diversi, più tempi... No, no, no! Ok, è caduto, è caduto. Raga, occhio che c'è un giallo sul nostro ponte che sta arrivando, eh. Di solito, chi fa il ponte... Boom, l'attriciare distrutto, zitto anche, sai! Sti cazzi! Vai, 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 vai! Dove ho piccone? Neanche io, però ammazza ammazzambella. Vai, ne ho ucciso un altro, ne ho ucciso un team da solo! Bravo, dai! Da solo! Come ho fatto a buttarmi da solo? Ma anche io prima ho ucciso un team, però non è che... Non è successo per me, perché... Ma lui sei la squad, non l'ha mai fatto, dai, non sei la squad! Raga, trap trigger! Trap triggerone! Ringrazia la Wolse, siamo vivi! No, zio, dov'è, dov'è? Più a me c'ha l'invisibilità, raga, e qua... Non è vero, mi avevo riflesso. Raga, ecco, 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 ecco! Nooo! Qua ancora vince, ragazzi, ma ancora vince! Una sola cosa dovevate fare, una! È un bait, ragazzi, dai, scialla! Ci fa insieme a coprire il letto. Da solo non mi farà andare, occhio, eh, che quando ti metti i cosi... Morto, morto anch'io. Ho ucciso, eh! Ta-na-na-na-na! Non è che la vita, ragazzi! Io te stai inserendo due verdi, non uno, ben due! Due verdi, due verdi, due verdi! Ma i verdi siamo noi, i verdi sei tu, coglione! I blu, i blu, i blu! Inseriscono anche i colori, dai, ragazzi! Insegniamogli i colori! Cosa stai facendo? Cosa è? Sta arrivando? No! No, dai! La creepa schifo! Crepe c... dai a federica pellegrini me lo fai il tuffo nel vuoto forse non ti conviene suicidarti facendo una morte onorevole facciamo un'altra partita tanto c'è no zio ma perché devo perdere se ho vinto eccolo oh mio dio è morto mi caglio di oh mio dio li ha uccisi tutti no no è morto ma c'è il rosso da me c'è il rosso da me no zio sta arrivando sta arrivando me lo sceglie lesto devi saltargli addosso e buttargli sotto che cazzo è successo buttati ora mai più dai ma mio dio è impossibile ma che cazzo è ma che cazzo è non ci voglio credere ma che non è possibile non è impossibile raga subito un mi piace tutti tutti quella streaming tutti un mi piace tutti anche quelli che guardano il video dopo è verificato almeno così un po' come si gioca il letto spaccato il letto dei rossi spaccato raga bravo però ottimo ne ho già potenziato la fornace che stupido che stupido non mi manazzi tu cane cane vai vai surry non mi cadere che hai la spada buona no se questo massimo questo ha tirato le spada vada al contrario vai surry a caso tu senza futuro a caso tu senza futuro ok ma la malazio cazzo non la son verso eh ok previ di diamante raga avete visto no 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 avete visto cioè lo vedranno nella live piazzo la lana per farlo cadere e nulla piazza e quello riesce ad attaccarmi c'è un blu che sta venendo ragazzi che sono sul ponte quale ponte sei? su quello principale per arrivare a stare andando in base blu eh ok la gli faccio l'agguato dall'isola di diamanti di raga io sto cercando di raga sta facendo un ponte hai girato ci hai girato no no muoio 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 sono morto non m'ho visto non m'ho visto sulla nostra base è il blu non m'ho visto questo ho poco tempo per fare quello che voglio fare raga se cado adesso sono un pirla hai preso danno se hai preso danno loro ti vedono no non ho preso danno neanche da caduta sicuro? l'ho ridotto l'ho rotto ok affambrodo affambrodo mori no no ok son caduto ma ho distrutto il letto faccio di merda ovviamente con compostezza e con gentilezza è un pezzo di merda non è con cattiveria si vede raga di si ora basta andare a ammazzarli quanto potranno resistere? no raga no non no no è vero ma Tudor che mi ha fatto è vero ma Tudor io mi sono scordato che c'era Tudor occhio qua guarda Tudor dove è partito raga guardate Tudor occhio su Rai di carica di adesso le indurro vabbè sono io raga no uno crepa crepato uno è fermo uno è fermo va beh uno no non lo c'è ho rimasto con 0 di vita perché aveva 6 di vita gli ho dato 4 spadate e come si arriva al tuo ponte Tudor? eh con 40 salendo porca male questo è quello che ci serviva una scala cazzo di scala raga io mi sento splinter cell è lì è lì Sasha dove? picchialo picchialo non lo vedo zio lì dall'altro lato ah ok questo oddio che male fa i ahhh ragazzi eccomi avrà 3 di vita 3 di vita 3 di vita ma lo cerco infatti aveva pochissima vita infatti aveva pochissima vita infatti ho detto diciamo così salutiamoci che dalle mie mani non sta uscendo il studio stanno uscendo i letti di bedwars questa live può concludersi qua se ne arriverà sicuramente un'altra perché comunque ci siamo divertiti ed eravate comunque tanti nonostante in un periodo di scuola grazie a tutti lasciate un mi piace a voi che siete rimasti e non è vero che non lo stanno a scrivere Tudor adesso tu appena arrivi va bene appena appena arrivi quanti aspetta che mi ha messo un'ultima domanda sascia perché non buchi le gomme della bici a Tudor va bene va bene ok grazie sono tubeless e poi bugà